Ancora una sconfitta e questa volta con una misura larghissima per il Pescara in trasferta il club di Bucaro cade infatti addirittura per 5 a 1 sul campo di un Rimini che si presentava in crisi davanti a questo match e che invece ha dominato il lungo e largo i Biancazzurri il mister del Delfino sceglie un 3-4-3 puntando sulle buone impressioni lasciate dai piccoli davanti contro la Carrarese ma è subito Rimini a dominare, gol di Delcarro in apertura, poi il raddoppio arriva su calcio di rigore dopo questo tocco ravvisato dall'arbitro è Claudio Morra a centrare il gol del 2-0 quando siamo al 19esimo il Pescara rientra parzialmente in gara con un calcio di rigore che viene realizzato da Merola qui c'è un tocco di braccio ravvisato sull'intervento di Tofanari, parte proprio Merola dal dischetto e trova il suo quattordicesimo centro stagionale e poco dopo sarà proprio il numero 10 al quarantesimo a divorarsi il 2-2 in avvio di ripresa il Rimini domina, c'è il centro di Lamesta che porta sul 3-1 il parziale poi ancora in contropiede, ancora Morra con un bel destro che è imparabile per Prizari e quando è il 74esimo siamo sul 4-1, Pescara che prova in qualche modo a farsi vedere qui c'è una deviazione sulla conclusione di Meazzi e dunque c'è la traversa e poi ancora Rimini che trova il 5-1 al 85esimo con il gol di Ubaldi delusione clamorosa in casa Pescara, con questo trend i playoff sono ovviamente a serio rischio Buccaro ha da poco rassegnato le sue dimissioni e dunque c'è da vedere chi sarà il nuovo allenatore del club biancazzurro Grazie